Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Rissa tra badanti in ospedale, denunciate tre donne dalla polizia Mal tempo in Ancona, il sottosegretario all'interno annuncia una medaglia d'oro per gli agenti Che ieri hanno salvato due donne rimaste intrappolate in un'auto sommersa dall'acqua Le mareggiate vanificano i lavori di ripascimento a Sassogna di Fano Rabbia tra gli operatori balneari e anche a Ponte Sasso Il consigliere Serfilippi invita a fare ricorso a comune e regione Mentre Seri ricorda gli investimenti fatti Addio a Gilberto Gasperi, ricoprì l'incarico di consigliere in provincia e regione alla fine degli anni 90 Bocciodromo a Ponte Sasso, a breve i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico Romani, Grece e Celti sono pronti a invadere le vie della città 150 rievocatori da tutta Italia trasformeranno Fano nell'antica Fano in fortuna Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Questa sera apriamo il nostro telegiornale con la cronaca In particolare con una rissa, una lite tra badanti al reparto di medicina uomini dell'ospedale di Urbino Finita senza gravi conseguenze per l'intervento delle infermiere Che si è conclusa con la denuncia a piede libero di tre donne per lesioni, disturbo e violazione di domicilio I fatti risalgono a febbraio ma solo al termine delle indagini da parte degli agenti del commissariato Coordinati dalla procura è arrivata la denuncia di una 44enne marocchina di professione badante E delle sue due figlie di 24 e 20 anni che avevano portato con loro anche un bambino L'aggressione a una italiana che prestava assistenza notturna a un anziano È stata ripresa col cellulare da un'altra badante ucraina contro la quale si sono poi scagliate le tre Proporremo al Presidente della Repubblica di conferire a questi uomini di Stato la medaglia al valore civile Sono già d'accordo con il Ministro a dirlo e il Sottosegretario all'interno Carlo Sibiglia A proposito degli agenti delle volanti che ieri hanno salvato due donne rimaste intrappolate in un'auto sommersa dall'acqua in un sottopasso Durante un violento nubiefraggio ad Ancona Un gesto di prontezza e concentrazione eroica, sottolinea il Sottosegretario Mi hanno riferito che al momento del loro intervento le signore avevano solo 20 cm di spazio per respirare Se l'intervento non fosse stato repentino staremmo raccontando una tragedia E dopo il salvataggio delle due donne, gli stessi agenti delle volanti al rientro in questura Completamente bagnati hanno notato e poi arrestato un 25enne nigeriano trovato in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana I poliziotti lo hanno visto mentre cercava di allontanarsi con fare sospetto, fermato e controllato Gli è stato trovato addosso un sacchetto contenente la droga divisa in piccole dosi Il resto della sostanza, una cinquantina di palline, è stato rivenuto in casa sua Dopo la convalida dell'arresto il ragazzo è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma E anche questa sera torniamo a parlare del ripascimento delle spiagge a Sassonia di Fano Perché dopo la mareggiata della notte scorsa i lavori iniziati lunedì per la sistemazione della ghiaia sono stati, possiamo dire, vanificati Noi oggi siamo andati a vedere qual è la situazione a Ponte Sasso, servizio di Lino Balestra Le spiagge della Sassonia non sono le sole in queste ore di mareggiate ad aver subito una pesante situazione dovuta all'azione del mare Ci sono altri tratti di costa affanese che non dispongono di scogliere adeguate Che hanno fatto passare agli operatori balneari noti insonni a strappare alla furia delle onde file e file di ombrelloni Come i bagnini tra l'Anfiteatro Rastat e Marina dei Cesari Sono i bagnini di Ponte Sasso dove le scogliere soffolte non assicurano da tempo un'adeguata protezione alla costa E dove da tempo chiedono una protezione adeguata delle loro attività commerciali Il mare è arrivato in terza fila, ha portato via un sacco di sabbia, è un macello Adesso state lavorando Cerchiamo di ripristinare un po' il tutto ma è un mezzo lavoro perché il mare sta venendo su ancora Qui se non si fanno le scogliere non c'è niente da fare Insomma se andiamo avanti così non so, non si riesce a lavorare assolutamente Ore e mattinate diverse da quelle che dovrebbero essere normalmente Sì perché anziché essere pieno di clienti è pieno di bagnini per rimettere a posto il tutto Come tutti gli anni lavoriamo tanto per mettere tutto quanto preciso e basta 4 ore di mareggiata Minima poi neanche una cosa grossa per rovinare tutto il lavoro di mesi Cosa vorreste? Visto che noi abbiamo pagato anche la progettazione per queste scogliere che vengano fatte Anche perché non si può andare avanti in questa maniera Inoltre questa mareggiata non ha agitato solo le onde del mare ma ha montato anche la polemica Sulla futura pista ciclabile che dovrà sorgere proprio lungo la costa E che porterà via metri di concessione e quindi ombrelloni ai bagnini Che chiedono di riguadagnare metri di battigia con gli scogliere Prima di sacrificare sull'altare della mobilità verde i loro spazi lavorativi Come si dice le case si fanno dalle fondamenta e non dal tetto Perciò prima si fanno gli scogliere poi si fa la ciclabile E' una cosa più logica anche perché se il mare mi porta via gli ombrelloni La ciclabile mi porta via gli ombrelloni O siamo qui per passare il tempo o mi invitano a mangiare tutti i giorni a me e la mia famiglia Perché se non si va avanti Inoltre mentre gli anni passati il fronte dell'erosione era più contenuto Solo tre o quattro bagnini Ora invece l'azione dei marosi riguarda più stabilimenti balneari Si va da uno o due bagni a nord del rio Crinaccio a oltre i bagni Carmen Coinvolta anche la isla Morada, una dog beach che da cinque anni accoglie bagnanti a due e quattro zampe Anche questa pesantemente colpita da questa mareggiata Per finire al confine con il comune di Mondolfo Dove a pochi metri dai disastrati bagni fanesi Il primo bagno a nord del comune di Marotta Confinante col comune di Fano Ha metri e metri di spiaggia Indovinate perché? Ecco cosa succede con una scogliera ben fatta E non si è fatta attendere la replica del sindaco di Fano Massimo Seri Il primo cittadino ricorda che alla difesa della costa sono stati destinati 8 milioni di euro Sentiamo Sindaco, allora questi giorni le scogliere e gli ombrelloni sono caldi Però mischiare le piste ciclabili con la lotta all'erosione sono due rome un po' diverse Beh io penso che per quello che riguarda l'erosione e la difesa della costa abbiamo fatto tantissimo senza precedenti Il gran lavoro fatto a Sassonia Annunciati, non annunciati così ma perché conseguito attraverso un grande lavoro che ha fatto anche la regione I nostri consiglieri regionali Altri 4 milioni per Fano Sud Proprio perché c'era questa esigenza Insomma in 3-4 anni 8 milioni di investimenti per nuove scoglieri Io penso che nella città di Fano non si siano mai visti tanti investimenti per opere di questo tipo Per cui penso, dopo è chiaro, la situazione richiede tante esigenze Poi quando ci sono mareggiate come queste dei problemi vengono creati Le cose non si risolvono tutte in una giornata C'è un percorso ma noi veramente sotto questo aspetto abbiamo dato risposte non importanti, molto di più La pista ciclabile sono due cose completamente diverse Sì, ho visto dei post poi con i social si scrive di tutto di più Mi hanno un po' amareggiato perché specialmente in quella zona noi abbiamo dato tante risposte Ricordo Rio Crinaccio e le situazioni che c'erano in passato Quindi grossi interventi fatti per metterlo in sicurezza L'intervento per il sottopasso E lì abbiamo già avuto il finanziamento Siamo arrivati primi, lo ripeto, primi Sul progetto pista ciclabile Un finanziamento di un milione e mezzo Che dividiamo anche con Mondolfo Dove integreremo anche con risorse dell'amministrazione comunale Per fare il primo tratto che sia un intervento che va a valorizzare la zona Quando si vanno a miscelare queste cose non si fa un buon servizio E poi ripeto, specialmente in quella zona c'è stata un'attenzione forte Con investimenti importanti Poi è chiaro c'è anche il tema di rimpinguare quelle scogliere Ma sono remoti da tantissimi anni Quindi noi cerchiamo di dare risposte anche a questo Però ecco, dispiace quando si vedono queste cose Non si riconoscono gli impegni, gli sforzi fatti Anche perché i soldi dei principisti ciclabili non si possono mettere nelle scoglie No, ma poi se non la voglio faremo da un'altra parte, che devo dire E sull'argomento è intervenuto anche Luca Serfilippi Il consigliere comunale del gruppo indipendente lancia un appello agli operatori balneari Fate ricorso al comune e alla regione, dice Serfilippi, viste le promesse non mantenute Sì, l'assurdità di queste ore è che domani ci sarà la premiazione per la bandiera blu E allo stesso momento ci sono spiagge rose dal mare E soprattutto di vieti di balneazione in diversi tratti del litorale Dall'Arzilla a Gimarra a Ponte Sasso Il problema in particolar modo dell'erosione è molto grave Perché questa giunta ha fatto tante promesse C'era un progetto risalente addirittura al 2010, modificato nel 2014 Dove le scogliere erano previste fino al porto di Fano Dopo diversi incarichi questa giunta ha deciso di modificare questo progetto Anche su input della regione, accorciando, quindi risolvendo il problema per alcuni stabilimenti Danneggiando fortemente Bani Carlo, Bani Gabriele e Bani Maurizio Anche in parte Peppe Quindi io cosa chiedo sostanzialmente con un'interrogazione che porterei in consiglio comunale Di smetterla di prendere in giro i bagnini, i bagnanti Perché poi chi purtroppo viene danneggiato sono anche gli utenti finali Quindi siccome si sentono ancora promesse da un anno deve essere fatta un'altra scogliera Poi altre due Io chiedo ai bagnini di far caso alla regione e anche al comune di Fano Perché è compartecipe di questi danni E quindi invitare anche chi ci rappresenta a smuoversi e immediatamente trovare i fondi necessari E per partire sin da subito dopo l'estate I bagnini non possono più aspettare Non ci sono bagnini di serie A e di serie B Ed è giusto che chi è deputato, quindi il comune e la regione Intervenga subito e risolva questo problema annoso Che non riguarda solo Sassonia perché ci sono anche tratti di litorale che vengono danneggiati I soldi se li hanno Si spendono e spandono soldi a destra e manca ad esempio 900 mila euro per il Pincio Quando c'era già un progetto da 300 mila euro Non si capisce per quale motivo per alcuni interventi i soldi ci sono E per altri molto più urgenti che danno lavoro a decine di giovani e non solo della nostra città I soldi non ci sono E grazie al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Ha replicato all'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi Stiamo facendo un lavoro che piano piano sta ponendo fine a un problema che abbiamo affrontato in modo concreto A differenza di quanto fatto dall'amministrazione di centro-destra quando era il governo della città Infatti, precisa Fanesi, il consigliere Ser Filippi parla di un progetto lasciato all'attuale giunta Dalla precedente amministrazione, cosa non vera Sui nostri tavoli non c'era nessun progetto legato alle scogliere Ne abbiamo dovuto redigere uno completamente nuovo e sviluppato con la preziosa collaborazione della Regione Un progetto terminato solo in parte e che riprenderà a settembre con il posizionamento delle scogliere all'Anfiteatro Rassat E poi fino al porto, impossibile eseguire gli interventi prima, conclude l'assessore Perché avremo compromesso la stagione balneare E ancora cronaca, si è spento in una struttura sanitaria di Fossombrone Dove era ricoverato da alcuni giorni Gilberto Gasperi, 73 anni Storico segretario del Movimento Sociale, ex consigliere della provincia di Pesero Urbino E poi della Regione con Alleanza Nazionale dal 1995 al 2005 A Palazzo Raffaello aveva ricoperto anche la carica di Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Gasperi è stato anche Presidente Provinciale dell'Ordine degli Agronomi E aveva insegnato all'Istituto Agrario Cecchi di Pesero I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Sant'Agostino a Pesero L'uomo lascia la moglie Monica e il fratello Giorgio Si è conclusa con oltre 500 servizi nel territorio e 13 sanzioni amministrative elevate L'attività dell'Assogev, l'Associazione Guardie Ecologiche Volontarie Operanti nella provincia di Pesero Urbino I controlli eseguiti a San Bartolo, alla riserva naturale statale Gola del Furlo E in alcuni comuni del territorio sono stati incentrati sull'antincendio, sull'ambiente Sulla raccolta di funghi e tartufi nel settore caccia e in materia di circolazione fuoristrada Scopo dell'Associazione è quello di educare, informare, prevenire e per ultimo reprimere Il Presidente Carlo Vecchietti che ha illustrato il bilancio durante l'ultima Assemblea dei Soci Ha lamentato la mancanza delle risorse regionali Infatti si legge in una nota, sono ormai anni che la Regione Marche e nello specifico l'Assessorato all'Ambiente Non eroga più alcun contributo alle associazioni di volontariato e alle province Affinché queste poi possano utilizzarle per fare convenzioni con le associazioni di vigilanza ambientale Inoltre durante l'Assemblea è stato nominato un nuovo consiglio direttivo Nonché i nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri Ci sono buone notizie per i residenti di Ponte Sasso Perché a breve partiranno i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico del bocciotromo Sentiamo Il centro sportivo di Ponte Sasso è un polmone verde ed una boccata di ossigeno puro per la comunità E coinvolge tutte le fasce d'età degli abitanti Una delle strutture portanti attorno alla quale ruotano molti frequentatori è il campo di bocce Dove vengono disputate sia gare ufficiali che tornei organizzati Da tempo questa struttura necessitava di un adeguamento alle ultime normative in fatto di sicurezza ed in ambito energetico Nelle settimane prossime tutto questo verrà realizzato da una ditta pugliese vincitrice della gara d'appalto Indetta dal comune di Fano per una spesa di circa 70.000 euro Spesa coperta dall'avanzo d'amministrazione del 2017 che non intacca così il patto di stabilità Ma permette, come illustrato questa mattina dal geometra del comune Mario Silvestrini Di effettuare radicali cambiamenti sulla copertura e sull'isolamento termico della struttura E sicuramente porterà un vantaggio anche all'associazione che risparmierà molti soldi anche nel riscaldamento Perché una struttura come quella coperta che lavora prevalentemente in inverno Diciamo aveva dei problemi di gestione Quindi andremo a sostituire la copertura, a renderla impermeabile ovviamente Ma anche renderla coibentata dal punto di vista termico In maniera tale che l'utilizzo del bocciodrono sia proprio più confortevole E appunto, come già detto, più economico per gli affociati Il tutto si è reso possibile grazie alla collaborazione stretta tra l'associazione sportiva ed il comune di Fano Che ha fatto proprio, dopo le dovute modifiche, un progetto esecutivo fatto redigere dalla società Dall'ingegnere Camboni Mario È da un po' che ci stiamo dietro Abbiamo presentato proprio a tal proposito il progetto È un progetto esecutivo che la Giunta se l'è fatto suo Se l'è, diciamo così, corretto un attimo E poi ha dato seguito alla cosa Quindi sì, siamo veramente soddisfatti Perché andiamo oltretutto a sanare, a bonificare un qualcosa che ormai cominciava un po' a scricchiolare Che è la struttura del bocciodrono Tempi di realizzazione quindi molto serrati Ora, dopo le obbligatorie verifiche di legge sulla ditta Verrà consegnato il cantiere E da lì, entro l'autunno prossimo, Ponte Sasso avrà la sua nuova struttura L'area Vasta 1 e gli ospedali riuniti in Marche Nord stabilizzeranno 204 operatori sanitari Per effetto della nuova delibera regionale che avvia il percorso destinato a circa 700 persone Questa delibera è importante, spiega il consigliere regionale Andrea Biancani Dopo aver garantito dal 2015 a oggi 1200 persone in più che lavorano nella sanità pubblica I profili sono 6 dirigenti, 147 per il comparto, 114 operatori sociosanitari, 7 ostetriche, 3 fisioterapisti e 4 logopediste E torniamo a parlare della società aeroportuale Fanon Fortuna Perché le forze politiche del centro-sinistra esprimono soddisfazione per l'archiviazione del procedimento penale Avviato dalla procura della Repubblica di Pesaro Per falso in bilancio in cui erano coinvolti il sindaco Seri, il dirigente capo di gabinetto e la segreteria generale L'unica vera responsabilità del comune di Fano, si legge in una nota, è stata solo quella di voler far luce su una vicenda Quella dell'aeroporto appunto, che meritava massima attenzione Restiamo in attesa di conoscere nell'interesse della città e della legge gli eventuali sviluppi della vicenda Nei confronti dell'ex amministratore delegato Santorelli, concludono che ha incautamente avviato gli esposti ora archiviati Cambiamo argomento e passiamo ai preparativi per l'organizzazione della Fano dei Cesari Oltre 150 rievocatori provenienti da tutta Italia sono pronti a trasformare la città nell'antica Fano In fortuna, sentiamo Se le quattro fazioni sono pronte a darsi battaglia, i circa 150 rievocatori in maggior parte romani Ma anche greci e celti non sono da meno La città della fortuna sta per trasformarsi nell'antica Fano in fortuna Grazie al grande lavoro che i tanti professionisti del mondo delle rievocazioni stanno preparando da tempo Oltre ai gruppi storici territoriali come Colonia e Iulia Fanestris e Simmachia e Lenon Saranno presenti rievocatori provenienti da tutta Italia, vere e proprie autorità del settore La parte dei greci, curata dalla nostrana Simmachia e Lenon, metterà in scena anche i cartaginesi e gli antichi macedoni di Alessandro il Grande Mentre i celti saranno rievocati dal clan Torknamore di Ancona I gruppi storici assedieranno il centro città a partire dalla zona Pincio Dove, oltre alla grande arena di sabbia, sede della maggior parte delle dispute, giochi, sfilati e della corsa delle bighe Verranno allestiti accampamenti dove si potrà ammirare uno spaccato di vita quotidiana dell'afano dell'epoca Fanesi e turisti, passeggiando nella zona, potranno imbattersi nelle Olimpiadi sportive E cimentarsi nel tiro con l'arco o nel lancio del giavellotto Oppure potranno assistere a spettacoli teatrali a fianco dei patrizi Sempre nell'area del Pincio, nei pressi dell'arco d'Augusto, verrà allestito il Macellum Mercato romano dove gli evocatori interpreteranno sia i venditori che gli acquirenti Con una suggestiva compravendita di schiavi Proseguendo all'interno di quello che sarà un vero e proprio percorso I visitatori si immergeranno nell'afano di 2000 anni fa E potranno assistere a spettacoli e animazioni create all'interno di un'antica domus romana Ammirare gli artigiani fabbricatori di terracotta, di calighe, di gioielli E imparare l'agrimensura, ossia l'antica tecnica per la realizzazione delle strade romane Vicino al Museo della Via Flaminia Lungo il percorso ci sarà uno spazio dedicato anche alla vita militare Che attraverso delle tappe giornaliere ripercorrerà l'evoluzione delle armi e degli stessi soldati Passando dal periodo arcaico, repubblicano e imperiale Con tanto di scontri tra gladiatori sotto l'arco d'Augusto Proseguendo sull'omonima via ci si imbatterà in un mercatino a tema Dove sarà possibile acquistare delle copie fedeli di oggetti dell'antica Roma Non solo zona Pincio ma tutto il centro storico verrà allestito da diversi accampamenti A partire da Giardini Amiani fino alla Porta della Mandria E ancora di fronte al Caffè Centrale e nei Giardini Leopardi Passeggiando per le vie della città si incontreranno le ronde E sarà possibile imbattersi in scontri tra romani e greci I magistrati scortati dai vigiles e ritualità civili del tempo I rievocatori durante le loro esibizioni daranno il via a lavoratori didattici itineranti Spiegando nel dettaglio le proprie azioni E unendo così le spettacolari scenografie ad una parte storico-culturale davvero interessante Le Marche con un quarto posto in classifica nazionale per numero di vestigli riconosciuti Festeggiano anche quest'anno le bandiere blu Come abbiamo sentito in un servizio precedente lo faranno a Fano domani 16 giugno dalle ore 17.30 Con una cerimonia a cui parteciperà l'assessore regionale al turismo e cultura Moreno Pieroni Per incontrare gli amministratori delle 16 località a Riverasche a cui è stato assegnato il prestigioso riconoscimento Il punto di ritrovo sarà alla residenza municipale fanese intorno alle 16.30 E dopo una breve visita alla chiesa di San Pietro in Valle Il corteo dei sindaci si muoverà fino a Sassonia preceduto dalla banda città di Fano Poi sul palco all'anfiteatro Rastat a partire dalle 17.30 riceveranno una targa La festa si concluderà alle ore 21 con uno spettacolo di danza dell'associazione Capogiro E per il quarto anno consecutivo la città di Fano partecipa alla festa della musica Grazie alla collaborazione tra l'assessorato alla cultura e turismo del comune di Fano E l'associazione culturale Fano Music Story che ha il compito di coordinare gli eventi Giovedì 21 giugno andranno quindi in scena contemporaneamente 25 eventi musicali Oltre 170 agli artisti coinvolti nei locali della città ma anche in suggestivi e storici luoghi pubblici Durante la manifestazione sarà inato il concorso Una foto per ogni musica In collaborazione con l'associazione centrale fotografia Maggiori informazioni le potrete trovare nel nostro sito internet occhioallanotizia.it Ed è una notizia di poco fa ovvero quella che i vigili del fuoco sono intervenuti Questo pomeriggio a Maceratta Feltria per soccorrere un uomo a bordo di un trattore Che dopo essersi ribaltato con il mezzo per causa ancora in corso di accertamento È rimasto incastrato con un braccio L'uomo è stato trasportato da un'eliambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona Ma non è in pericolo di vita Sul posto anche i carabinieri Fra poco trasmetteremo frammenti con la Fanno di un Tempo A seguire in cucina con lo chef uno speciale dedicato alla podistica Straccastelli 2018 Dunque grazie per aver seguito Occhio alla Notizia Questo come sempre è il numero per le vostre segnalazioni E buon proseguimento di serata con i programmi di Fanno TV Arrivederci Grazie